che ci fai qui io stavo già dormendo alle 10 alle 10 sì mi spiace avrei voluto festeggiare con te avevi da fare impegnato ma che mi sta tenendo un muso ma dai roberto non lo vedevo da un sacco di tempo ma guarda non ti deve giustificare proprio anzi noi non siamo obbligati da niente ognuno fa la sua vita tu la tua io la mia è apposto così va bene e vabbè ora ci vediamo ciao tu stasera vuoi farmi incazzare perché se ti incazzi che fai fammi mettere le mani addosso mettimi le mani addosso dai e allora ma che hai bevuto? mi sono scolata tutta la bottiglia che avevo preso per noi due dimmelo che non te ne frega niente che fra 20.000 hanno scelto me per un colloquio eh? e che forse avrò un lavoro che aspettavo da anni dimmelo dimmelo che sei venuto qui solo per portarmi a letto sì è vero sei un bastardo sì sono un bastardo e non mi dà sempre ragione hai ragione e non ripete sempre tutto a pappagallo e non ripete tutto sempre a pappagallo mi sei mancazza stasera non ripete tutto a pappagallo non ripete tutto a pappagallo Non riesco a dormire. Non riesco a dormire.